Allora Michele, da Tarantino qual è il tuo pensiero in merito a questa situazione che ti vede come una sorta di traghettatore, da allenatore della primavera alla prima squadra per questo impegno in Coppa Italia? Ma io ti dico, sono un tesserato del Taranto, mi hanno chiesto comunque di allenare la squadra fino a domenica e ti dico questo farò. Qual è l'atmosfera che si respira nello spogliatoio? Ma ti dico, non è proprio delle migliori, perché purtroppo tutti quanti sappiamo che cosa sta succedendo, però vi sono andando avanti perché sono tutti professionisti. Su quanti calciatori over puoi puntare finora e quanti della primavera porterai a Benevento? Ma ti dico, adesso sono 11 quelli del Taranto, diciamo over, oggi ho fatto venire 6 anche della primavera, però viviamo la giornata, vediamo domani cosa succede. È una situazione difficile perché non si sa quello che accadrà il giorno successivo e questo non fa bene ovviamente a una scuola di calcio, all'ambiente, alla tifoseria. No, ti dico quello no, però ormai ci siamo dentro, ci dobbiamo abituare anche perché domenica è partita. E se si dovesse andare oltre la partita di Coppa Italia? Ma io ti dico, questo non lo so, bisogna chiedere alla società, a me mi hanno chiesto solamente di guidare la squadra fino a domenica. Pensi che questi 11 titolari, che sono i reduci per dire di Vigiano, li riuscirai a tenere fino a domenica alle 20? Ma io spero di sì, poi sai ti dico, dopo ognuno di noi comunque è professionista, quindi io ti dico, ripeto, non so cosa succede domani. Ecco.